Oggi voglio parlarvi a cuore aperto, farò un flusso di coscienza su Conte, tutto i pro, i contro, se va via, se rimane, cosa penso di lui anche di quest'anno, quindi anche in virtù dello scudetto, quindi facciamo una specie anche di analisi di fine stagione, quindi voglio capire tutto quello che c'era intorno a Conte e il fatto che possa lasciare l'Inter. Allora partiamo da un presupposto, sapete che io dei giornali non mi fido tantissimo perché la qualità giornalistica italiana, non solo calcistica ma anche in altri settori, è veramente di livello, infimo, punto, non ci sono virus, è punto. Il punto però è che questo giro non sono alcuni o molti giornali a dare questa notizia di Conte in rottura, ma sono tutti giornali, tutti quanti, anche l'Ansa, anche giornalisti che si occupano di Inter, di mercato e tutto quanto, quindi probabilmente siamo vicini al vero questa volta. Attenzione, il fatto che questa volta i giornali abbiano da tempo dato notizie di possibili rotture e tutto quanto non vuol dire che sono affidabili, se una volta su dieci ci prendi per un giornale è malissimo, quindi non scombiniamo le carte e questo vale non solo per i giornali ma anche per Insider e altra roba. In questo caso può essere vero che Conte possa lasciare l'Inter. Allora, l'Inter deve abbassare i costi, ma è giusto ragazzi, cioè non è che le società malefici cinesi stai stranzate che non si possono sentire più. L'Inter ha abbassato, come le altre squadre, i ricavi in maniera enorme negli ultimi anni, ovviamente, quindi deve rendersi sostenibile, non è che puoi continuare a fare meno 100, meno 200, meno 150 ogni anno, vai verso un muro e ti schianti. Quindi devi ottimizzare e ridurre i costi. Si fa così in tutte le aziende, è una cosa normale. Vedrete che, per esempio, la Juve è lì lì che sta vedendo con Ronaldo cosa fare, no, non a caso. Il Milan non è riuscito a rinnovare la Donnarumma, per esempio, eccetera, e altre squadre faranno altre cose. Conte non vuole questo ridimensionamento, non accetta che magari ci possa essere una cessione, perché non è che l'Inter e Suning vende sette titolari. Non esiste, Suning vuole mantenere comunque la sua capacità di essere vincente, no? Ha scommesso a lungo termine sull'Inter il finanziamento che ha fatto qualche giorno fa e l'ha intestato a Grit Horizon, neanche all'Inter, per aumentare i debiti dell'Inter, se l'è preso nella sua società praticamente questo debito, questo prestito. Beh, ragazzi, questo significa che vuole investire sull'Inter. Quindi, sì, ci sarà una riduzione, ma non è che ci sarà uno smembramento. Quindi Conte, se non gli sta bene una leggera riduzione di un po' di stipendi o di qualche giocatore in più da dar via, Vidal, Kolarov e altri giocatori, e magari fare una cessione, una, di un titolare, beh, allora, Conte, non puoi chiedermi 9 milioni di buon'uscita. Te ne vai e buonanotte, ciao, arrivederci, ok? E fino a qua, questo volevo dirlo. Ora però veniamo al nocciolo. Allora, tra i mister, Conte è quello che gioca un calcio, onestamente, vediamo quelli che sono i pro di Conte, i meriti di Conte, che gioca, perché mi piace, insomma, perché è quello che gioca un calcio più simile a quello che piace a me, sia come modulo, sia come idea di calcio, soprattutto nella versione, attenzione, di gennaio-marzo, quei tre mesi lì. Quindi un Inter che era rembante, lì non bisognava difendere i 10 punti di vantaggio, 15, no? Bisognava superare il Mila, bisognava andare avanti, e quindi lì abbiamo giocato a calcio. Abbiamo visto un Inter col 3-5-2, non più il 3-4-1-2, abbiamo visto un Inter con Eriksen e Mezzala, abbiamo fatto grandi partite con quell'Inter lì, in quel momento là, poi l'Inter è cambiata successivamente, ma era un altro momento della stagione, aprile e maggio, no? Però in quei tre mesi, cioè, quindi quella è l'Inter che a me piace, e Conte a me piacerebbe che rimanesse a livello tattico e di mentalità. Ha dato molto anche a livello appunto di mentalità, di spirito vincente, ci ha fatti vincere, però attenzione ragazzi, eh, attenzione alle valutazioni, perché, secondo me, adesso si sente Dio in terra, perché è uno anche con un ego abbastanza importante, voglio dire, bravissimo mister, a me piace tanto, però lo volevo anche, vi ricordate, a dicembre di Spalletti, a un certo punto mi sono rotto le balle, ho messo un cartello qua, voglio Conte, perché, ok. Però Conte ha un ego spropositato, e che, secondo me, è montato anche a causa comunque della vittoria, e a causa anche dell'ambiente che, purtroppo l'ambiente interista è un ambiente che estremizza pregi e difetti, quindi o sei Dio o sei uno scarto vivente, non esistono le critiche un po' più argomentate. Allora, lo scudetto, lo dico chiaro e tondo, non, lo scudetto non è un miracolo, la squadra c'era ed era la più forte sul campo. Ragazzi, ho capito quel complesso di inferiorità, ma l'Inter era la squadra più forte sul campo tra i titolari di quest'anno, partivamo favoriti, punto, non è un miracolo. E non vuol dire che sia una cosa da minimizzare, qualcuno ha detto abbiamo vinto solo per la pandemia, stronzate, l'Inter ha vinto perché è forte sul campo, perché ha avuto un allenatore forte, eccetera, eccetera. Questo è il primo punto, possiamo dire quindi che è stato un grande risultato, ma non un miracolo. E possiamo dire, come è stato un gran risultato e lo scudetto, che la Champions League è stato un fallimento. Cioè, quindi, voto a Conte, non 9-10, un Dio. Conte, secondo me, ha avuto un voto in stagione che è 7-7, perché ha mantenuto, e molto bene, perché bisogna vedere anche come vinci, lo scudetto è stato vinto molto bene, quindi questa cosa gli dà sicuramente un 8 in pagella per come ha vinto lo scudetto, seppur avendo la squadra, secondo me, più forte sul campo, fine dei discorsi. La Juve non si è potenziata col mercato scorso, noi abbiamo preso Hakimi, comunque, no? Abbiamo migliorato anche i giocatori che c'erano. Eriksen era in squadra, poiché lui l'abbia capito gli ultimi mesi che è giocatore di calcio, è un problema di Conte, ma c'era in squadra Eriksen. Ho sempre creduto che potesse fare bene la mezzala, da quando è arrivato l'Inter, eccetera, eccetera. C'è un potenziato in noi, la Juve non si è potenziata e ha cambiato allenatore prendendo un neofita Pirlo, il maestro Pirlo, quindi si è depotenziata. E l'Inter è arrivata molto vicino l'anno scorso alla Juventus, ci siamo fino a qua. Voglio argomentare tutto quanto per filo e per segno, perché alcuni sono duri, alcuni vanno molto di pancia, quindi Conte ci ha fatti vincere, Conte è Dio Supremo. Non è Conte Dio Supremo. Come ha vinto lo Scudetto 8, ha fatto un fallimento in Champions, perché con una squadra del genere in Champions, essere arrivati quarti, ragazzi, è un fallimento... Però è grande, un grande fallimento. Allora, quest'anno, senza il passaggio ai gironi e con acquisti fallimentari voluti da Conte, cioè Vidal e Kolarov, il danno è stato circa di 35 milioni, perché dice poi che il calcio dei poveri, il calcio del popolo, questa roba è qui, Eh sì, ma senza i soldini poi gli fai fatica. E senza i soldini, per esempio, Conte... No, non vuole stare all'Inter, perché vuole i soldini per fare il mercato, perché poi tutto il cerchio torna, no? Quindi, attenzione ai giudizi. Allora, l'Inter ha dato tanto a Conte. Come lui ha dato tanto a noi, e l'ho già spiegato prima, abbiamo vinto, spirito vincente, gruppo compatto, sempre cazzuti sul campo, il modulo che a me piace, il calcio che a me piace, quindi ha dato tanto a noi. L'Inter ha dato comunque molto a Conte, perché l'Inter non è stata... Non è che abbiamo vinto grazie a Conte, prima eravamo nulla. L'Inter si è costruita comunque nel tempo, nel tempo. Bastoni, non è che... Conte, Bastoni, Bastoni è arrivato all'Inter, ce l'abbiamo comprato quando aveva 17 anni dall'Atalanta, a 31 milioni, a 31 milioni in primavera dell'Atalanta, secondo voi, e poi l'abbiamo lasciato due anni all'Atalanta e uno al Parma, secondo voi, Bastoni, perché io lo conoscevo già prima e l'ho sempre idolatrato anche gli anni scorsi, se vi ricordate, no? Già appena ho fatto la prima stagione con l'Inter, che non giocava, era panchina, dicevo, Bastoni ragazzi, è un giocatore da far giocare in campo, è una promessa, ci abbiamo visto lungo già da prima. Bastoni abbiamo preso mica per Conte, Bastoni è arrivato prima per il lavoro della squadra, Lautaro, idem, abbiamo preso che ha fatto due partite a Racing, preso 25 milioni, è arrivato all'Inter, Hakimi abbiamo preso da 20 anni, grazie a Ausilio, che era da mesi che lo seguiva, era un suo pallino, già dato molto tempo, lo seguiva Ausilio, no? Infatti è arrivato che nessuno della stampa lo aveva dato come titolare dell'Inter, come mercato. Skriniar, chi è che l'ha portato? Conte l'ha portato Skriniar all'Inter, preso dalla Samp per 16 milioni di più caprari, la gente non conosceva neanche chi fosse Skriniar, ok? L'ha portato Ausilio. Barella era in seguito dall'Inter da anni, era l'anno prima anche che bisognava prenderlo, solo che poi Spalletti si è impuntato su un angolà, e vabbè, ma Barella era in seguito dall'Inter da prima che venisse Conte, e Eriksen non lo voleva neanche Conte, ed è arrivato per una cifra irrisoria, per quello che è il suo valore, ed è stato un altro colpo di mercato importante la nostra dirigenza. Questo per dire alcuni giocatori che sono arrivati pronti per Conte, giocatori top, su cui abbiamo visto lungo, da prima che arrivasse lui, e lì Conte si è trovato una squadra ormai cresciuta, maturata, anche grazie al percorso di Spalletti, che non è nato perfetto, ma insomma lì la squadra si è maturata, e si è trovata una squadra, Conte, dove lui ha messo la ciliegina sulla torta, con la mentalità vincente, ma è una squadra importante, quindi l'Inter ha dato molto a lui, e devo dire che alcuni giocatori dell'Inter hanno anche, e quindi l'Inter si può dire, che ha anche migliorato Antonio Conte, perché l'idea di gioco di Conte si è sviluppata, si è migliorata, grazie a giocatori che si è trovato per le mani, su cui non credeva dall'inizio, e poi l'hanno fatto ricredere, e il suo gioco è migliorato, perché il 3-5-2 che abbiamo visto da gennaio a marzo, è un 3-5-2 che non è il 3-5-2 originale di Conte, Conte, Bastoni ed Eriksen, giocatori così, non li ha mai avuti prima, e non li ha mai implementati prima, nel suo 3-5-2, e non ci ha creduto dall'inizio, né su Bastoni, né su Eriksen, si sono presi l'Inter, Bastoni ed Eriksen, grazie anche a Conte, il sistema di gioco che funziona, ma grazie anche al fatto che sono due campioni, li sono messi con grande umiltà, dietro ai titolari, e hanno lavorato, hanno trovato il loro spazio, e hanno poi, sul campo hanno convinto Conte, di essere parte dell'Inter, e lui non neanche ci ha creduto dall'inizio, possiamo dire questo? La stessa cosa vale per Perisic, non credeva Perisic Conte, Perisic è tornato per forza di cose, come Eriksen doveva andare via sul mercato, l'Inter per una serie di motivi, li ha dovuti tenere, e, anche Di Marco, Conte non ci ha creduto, è andato via, adesso torna da Salvatore, Di Marco ha fatto bene col Verona, quindi non è che Conte sia perfetto, Conte è duro a volte mentalmente, ha dato molto, e ha preso molto, e migliorandosi anche, grazie a quello che ha trovato l'Inter, e il fatto che, si è dovuto adattare, ad alcuni giocatori, che secondo me, gli hanno anche aperto strade nuove, tattiche mentali, andiamo avanti, andarsene in questo momento, per quanto mi riguarda, se se ne va Conte, se è come quello che ci dicono, se se ne va perché potremmo fare una cessione, quindi non è d'accordo, eccetera, eccetera, beh, perdonatemi, ma è sintomo di un uomo che non accetta le sfide fino in fondo, perché? Perché l'Inter quest'anno è una grande squadra, anche con una cessione, immagino per esempio Lautaro Martinez, anche se cedessimo Lautaro Martinez per 80-90 milioni per fare cassa, e lo andiamo a sostituire con un altro, con un Muriel per esempio, o con un altro giocatore, oppure Sanchez stesso prende il suo posto, e teniamoci al sede di Pinamonti, certamente ti depotenzi in attacco, però non è che perdi 30 punti perdendo Lautaro Martinez, ok? Perché conservi tutti quanti gli altri, non è che l'Inter vuole smembrarsi, quindi il fatto che Conte non accetti una cosa del genere, e voglia andarsene per questa cosa qui, è sintomo che è un allenatore che ormai vuole la pappa pronta, e vuole intestarsi i meriti, vuole portarti a vincere una volta che ha vinto, e siccome la riconferma è molto più difficile della vittoria, te la e buonanotte, ok? E magari vai in una squadra che non è neanche la Champions, così può dire di aver preso un altro campionato da un'altra parte, ma la Champions ancora non ce la fa a superare neanche i gironi, perdonatemi, sono un po' avvelenato oggi, però è giusto mettere i tasselli al loro posto, ok? Ogni tanto. Questo non vuol dire che sia scarso, io spero che rimanga, secondo me Conte è un mister importante, l'Inter è costruita con un 3-5-2, e vorrei che continuasse, per una serie di ragioni, perché abbiamo la difesa che è perfetta così, Hakimi è perfetto così, Eriksen è giusto mezzala, Barella è giusto mezzala, insomma, il 3-5-2 è il top al momento per l'Inter. Fine dei discorsi, qualcuno parla di Allegri, ragazzi tenetevelo Allegri, io me ne faccio un ca... mi rompe i coglioni anche Allegri, ok? Peggio, anzi bisogna cambiare pure stile di gioco, e non è un grande allenatore Allegri, dal punto di vista dell'allenamento della squadra, è un vincente, sì, ha esperienza, sì, però io mi terrai Conte se fosse possibile, non è che siccome gli faccio le critiche, voglio annichilire Conte, perché poi ci sono le persone che vanno a simpatie, no? Che, ma tu critichi Conte, allora sei contro Conte, no, non funziona così, devo sempre giustificare, semplicificarlo, però purtroppo alcuni sono di coccio e faticano a pensare che uno abbia una visione critica e oggettiva e neutra della cosa, si pensa sempre che si va a simpatie, cioè andate voi a simpatie, voi quelli che criticano questo tipo di, e che non capiscono questo tipo di logica, e quindi pensate che tutti vadano a simpatie, io Conte vorrei che rimanesse, ma bisogna mettere le cose a posto, bisogna fare le critiche giuste, dai meriti giusti, non di più, non di meno, andiamo avanti, allora, spesso Conte si è intestato per esempio, meriti che sono da dividere, il fatto che la vittoria la dedico a me stesso, e si dà un po' di autoelogi o altre cose, beh insomma ha una squadra importante, pensate a quando ha sminuito gente come Bastoni, come Barella, come Sensi all'inizio dell'anno scorso, giocatori che fanno la differenza in campo, me ne frega un cazzo da dove vengono i giocatori, se vengono dal Sassuolo o altro, Milito veniva dal Genoa, ci ha fatto vincere le triplette, ok, già giusto per dire, cioè, o Tiago Motta veniva dal Genoa, beh, ecco no, altri venivano dalla Juve, venivano dalla Roma, venivano dalle altre squadre importanti, e hanno fatto cagare uguali, cioè, non è in questione di da che squadra vieni, e questa cosa mi ha dato molto fastidio all'epoca, e questa cosa non è tanto un mancanza di rispetto, cioè lui non voleva mancare di rispetto, in realtà a Barella e a Sensi, secondo me, non è così cattivo, lui è uno che cerca di tutelare i giocatori, voleva più che altro illoggiare se stesso, vedete, sto vincendo, sto facendo bene, con giocatori che venivano dal Sassuolo e dal Cagliari, ecco, e se non si appassiamo in Champions, ebbè, ma abbiamo i giocatori del Sassuolo e del Cagliari, cosa vi aspettate? Ecco no, poi prendiamo uno che viene dal Tottenham, finalista di Champions, e lo mette in panchina, quindi, cioè, capiamoci su questa cosa qua, quindi, a volte, secondo me, si è intascato meriti che sono, non sono, non è che non siano suoi, sono suoi, ma sono anche della società, del mercato, dei giocatori stessi, eccetera, eccetera, e i demeriti li ha buttati su altre cose, e a volte sono stati suoi, il fatto che abbiamo perso comunque molti punti all'inizio del campionato, poi abbiamo vinto, quindi siamo tutti contenti, però lì, caspita, si vedeva che il 3-4-1-2 non funzionava, cioè, l'ho spiegato in maniera, per filo e per segno, settimane, settimane, finché poi siamo tornati al 3-5-2, magicamente abbiamo trovato la nostra, la nostra, la nostra quadra, e è venuto fuori che le hanno chiesto addirittura ai giocatori, sembra, da qualche intervista che hanno fatto, no, ultimamente, quindi pensate voi, pensavo che fosse Conte che si era avveduto, invece, forse sono addirittura i giocatori che hanno spinto per, quindi non è che sia perfetto anche lui, allora, quest'anno, andiamo in conclusione, quest'anno, Conte non prende più 12, milioni netti, ma ne prenderebbe il terzo anno 13 e mezzo netti, Sky dice che non c'è neanche il decreto crescita, quindi sarebbe devastante, io so che c'è il decreto crescita, dovrei controllare il bilancio e vedere, vabbè, facciamo che c'è il decreto crescita, pure col decreto crescita, ragazzi, sono 18 milioni, lordi più o meno, se sei senza, ragazzi, sono 25 milioni, sono veramente tanti, lordi, è una cosa devastante, ti prendi clop a sto punto, vabbè, comunque, o guardiola, dicevo che, chi che meno vincono magari in Champions, o comunque, spesso vanno, lottano anche per coppe, vabbè, allora, prende 13 milioni e mezzo netti, sono veramente tanti, sono veramente tanti, l'Inter è in grande difficoltà, ma come altre squadre, intendiamoci, e ha bisogno di ridurre i costi, non capire questa cosa, è dei imbecilli, è dei imbecilli, ragazzi, non sto parlando adesso di Conte, che non è imbecillo, ma anche di chi non lo capisce, è imbecille, poi si parla appunto del calcio del popolo, però appunto senza il mercato, il Conte poi, anzi, il Misder, il Misder, se ne va, il Misder, se ne va, quindi questa è la situazione, io spero che Conte, tiri fuori coraggio, rimanga, e faccia vedere, questa sì sarebbe la vera sfida, perché io ho detto, è una grande sfida venire all'Inter, perché da tanto tempo che non vinceva, ho rischiato molto, Conte, cazzo, porca troia, basta con questa retorica, che ogni tanto mi fai cadere le ginocchia, hai fatto un grande lavoro all'Inter, ma, piano, cioè, l'Inter non vinceva, ho rischiato molto, è una sfida difficilissima, è stata un'impresa, un miracolo aver vinto così, cioè, ma anche no, anche no a questo, perché questo vuol dire minimizzare la rossa dell'Inter, la società dell'Inter, quello che è l'Inter, ragazzi, dai, su, santo cielo, cioè, abbiamo una squadra che, io, i tre in difesa non li cambio con nessuno in Saria, con nessuno, con nessuno, forse con quelli di Balima, con i problemi fisici che ha ultimamente, non li cambio con nessuno i tre in difesa, a Kimi a destra non lo cambio con nessuno, poi non so a voi, Barella non lo cambio con nessuno, che ne dicano, che altri, che sì, e tutto quanto, io mi tengo Barella, Brozovic, come mediano o basso in Saria, trovatemi tanti di meglio, Eriksen, secondo me, ragazzi, non ha fatto vedere il massimo all'Inter, ma, ma sono convinto, può far vedere molto di più, già quello che abbiamo visto a Sprazi, in quelli tre mesi, e anche ultimamente, è già sufficiente, è già più che sufficiente, per essere uno dei, giocatori buoni, tra i più bravi della Serie A, comunque, secondo me, per qualità e tutto, può addirittura migliorare, Lautaro e Lukaku, sono la coppia amicidiale della Serie A, ragazzi, non li cambio con nessuno, Eriksen, comunque, non lo cambio con nessuno, neanche lui, l'unico che vorrei magari è Milinkovic, ma quello non lo cambierei, ne con Barella, con Eriksen, onestamente, casomai potrei cambiarlo con Brozovic, arretrando Barella, metto Milinkovic, nel centro campo, che si inserisce, però, insomma, capiamoci, c'è solo a sinistra, che comunque Perisic ha fatto il suo, questa stagione, non è che si aveva fatto tanto male, ha fatto un buon campionato, ha fatto 5 gol, 5 assist, quindi, per niente male, per niente male, quindi, Tolto Andanovic e Perisic, che comunque sono due giocatori di rispetto, comunque, mi dite, cortesemente per quelli che ancora non credono, mi dite, o anche Conte, mi dica Conte, chi altro è meglio di noi in Serie A, eh, ma le riserve, sì, ma si gioca sempre in undici, e comunque le riserve, l'Inter le aveva, e alcune, che abbiamo come riserve, le ha volute Conte, Vidal, Kolarov, che, vabbè, c'è colpa sua, che le ha voluti loro, ma Sanchez, come terza punta, chi è che ce l'ha in Serie A? È un giocatore importante, Sanchez, terza punta, Darmiano, un giocatore comunque, come riserva, è tanta roba, va benissimo, Vessino purtroppo è stato un po' infortunato, ma è un giocatore, secondo me, che come riserva è molto buono, Vidal, già detto colpa di Conte, Sanchez purtroppo, eh, eh, voglio dire, è mezzo rotto, ma dove sono i Sanchez Boys, che finiscono l'altro giorno, tutti i Sanchez, è un fenomeno, lo venderei mai, è un fenomeno, altro che Sanchez, altro che Eriksen, Sanchez è un campione, nuovo Iniesta, come dice Zerbi, allora, se è così, e Ranocchi abbiamo visto che fa molto bene, D'Ambrosio, comunque come riserva, voglio dire, sto passando tutti, perché voglio veramente annichilire queste stronzate, che l'Inter è inferiore, ha fatto il miracolo, l'Inter è una squadra forte, la più forte della Serie A, fine, quindi Conte ha fatto nessun miracolo, e che si ridimensioni un po', ripeto, che la vera sfida sarebbe quella di continuare con l'Inter, questa sarebbe la vera, grande sfida, mister Conte, non il fatto di venire all'Inter, in questa Inter, forte per com'è, e con la possibilità che ti ha dato anche l'Inter, perché l'Inter comunque tu sei venuto, ti ha pagato un fottio, e ti ha speso l'ira di Dio sul mercato, prima, pre confusione, lì, pandemia, 80 milioni per Lukaku, più stipendio enorme, ti ha preso Barella, ti ha preso una serie di giocatori in giro, no, eccetera, poi ti ha preso anche Sanchez, comunque stipendio importante, poi l'anno scorso, in piena crisi economica, ti ha speso 45 milioni per un esterno, ti ha preso il tuo Vidal, ti ha preso il Kolarov, ti ha preso Tarmian, comunque un giocatore così, ti ha riscattato Sensi, fammi capire, in piena crisi economica, di cosa ci stiamo lamentando, bene, con questo spero di aver chiarito un po' la faccenda, di aver fatto ragionare qualcuno, che ti fa più Conte che l'Inter, perché su tutti quanti Conte, la 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 la, Conte, la 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 la, sì, ottimo, ha fatto un grande risultato, ma forza Inter, forza Conte, perché di ominetti piccoli, non ce ne facciamo nulla, Conte, ripeto, ripeto ancora, ha fatto un grande risultato quest'anno, ma il grande coraggio sarebbe continuare con l'Inter, fare a meno di un giocatore, uno, non quattro, cinque titolari, un titolare, rimpiazzarlo comunque con un giocatore all'altezza, magari non di Lautaro, facciamo Lautaro, magari non di Lautaro, ma comunque un giocatore buono, cioè se prendiamo Muriel, e abbiamo Sanchez, ragazzi, se anche prendiamo Lautaro, beh, è comunque un'ottima squadra, ragazzi, che può lottare per il titolo, magari non più con 91 punti, ok, siamo arrivati 15 punti in avanti, rispetto alle altre, vabbè, perderemo qualcosa, può essere, insomma, Muriel comunque è un giocatore importante, c'è sempre Sanchez, ok, oppure, ma per esempio, non volete Muriel, Vlaovic si fa così schifo, cioè prendere Vlaovic a 40, vendendo Lautaro 80, 85, secondo voi perdiamo 40 punti in campionato, perdiamo 15 gol, di Lautaro, non so, per dire, Conte, tira fuori le palle, ripensaci, ci perdi molto, ci perdiamo molto noi, se vai via tu, perché bisogna ricostruire, e ci perdiamo sicuramente, perché sei un ottimo tecnico, ma ci perdi anche tu, hai creato un bel progetto, cioè, ti è stato creato un bel progetto, e tu l'hai amalgamato bene, hai fatto, hai vinto, devi solo far meglio in Europa, se arrivi anche secondo l'anno prossimo, non credo che ci buttiamo giù da qualche parte, per me va bene arrivare a secondo l'anno prossimo, e andare avanti in Champions, onestamente, cioè mi accontenterei tranquillamente così, non ho la pretesa che tu rivinca lo scudetto facile, se lo vinci benissimo, se non lo vinci va bene, io andrei avanti con questo progetto, onestamente, tira fuori le palle, e fa vedere di essere uno, che le ha quadrate, davvero, e non, che dice di averle quadrate, o che le ha quadrate, in alcuni momenti, o che le disegna quadrate, mettile sul tavolo, e facci vedere la mercanzia, dai ragazzi, santo cielo, forza inter, forza inter, l'inter, questa qua rimane, questo, col logo diverso, ma sempre forza inter, grazie a tutti,